al centro, prendi la fascia per premiare e allora Miss Fracatel quindi accede alla semifinale di Miss Vesuvio la numero 10 Romina Nuzzolese abbracciatevi, facciamo la foto tesoro metti il braccino dentro, brava guardatela al centro al centro per la foto, ovviamente le foto di questa serata come di tutte le serate vanno su www.missvesuvio.it o sulla pagina Facebook di Miss Vesuvio grazie Luisa, grazie anche per l'ospitalità e per tutto quello che hai fatto per noi grazie, grazie davvero la prossima fascia che daremo è la fascia del posto dove giochiamo in casa Miss Tirimbò premia Carmela Sessa eccola, arriva dal centro ciao Carmela, buonasera la fascia di Miss Tirimbò la vince la numero 12 Carmen Raya facciamo la foto alla nostra Miss eccola, perfetto, grazie continuiamo stanno quasi finendo le fasce quindi ci avviciniamo alla vincitrice la fascia di Miss Bar La Conchiglia uno dei nostri main sponsor premia il comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia Savino Riccio buonasera, ancora grazie buonasera ancora allora al centro pronto per attendere la Miss che sta per premiare è la numero 6 Ivana Gallo facciamo la foto cresce la suspense cresce l'adrenalina per sapere chi vincerà la tappa la terza di Piano di Sorrento Miss Vesuvio 2012 la fascia che stiamo per assegnare è una fascia ancora più importante perché è una fascia che daremo a una Miss che poi lavorerà molto perché il nostro parrucchiere, truccatore, ufficiale di Miss Vesuvio Alfonso Palma per Parma Stylist poi curerà molto le nostre Miss le porterà in giro per l'Italia alle varie convention nelle varie sfilate quindi è una fascia importante molto ambita la fascia di Miss Palma Stylist premiano Angelo Ranieri Lucia Gaito eccoli, prego buonasera Lucia Lucia, Lucia al centro vicino a Angelo fate la coppia che rappresenta Palma Stylist Alfonso Palma allora quindi come vi dicevo una fascia molto ambita la vince la numero 17 Francesca Castaldo foto abbracciate la Miss guardate al centro per la foto ci siamo quasi stiamo per scoprire le carte la fascia che sto per dare è la seconda fascia più importante dopo quella della vincitrice di tappa Miss Teatro Totò premia Helen Zfagli come l'ho detto? com'è? te spazio chi l'ha scritto sto nome? che mi fanno queste congiure premia Helen la numero 14 Rita Celio musica 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 la foto anche col presidente prego presidente prego prego eh sì facciamola come si deve vince la terza tappa di Miss Vesuvio 2012 la numero 16 Federica guadagno sulle spalle sulle spalle sulle spalle prego abbracciatevi abbracciatevi Nicola Pinto Anna Maione ecco la vincitrice Anco e il premio passerella per la nostra miss prego musica 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 grazie a tutto lo staff di Miss Vesuvio grazie Sorrento perché ci avete ospitato sempre in maniera deliziosa straordinaria io spero che ritorneremo anche l'anno prossimo ricordate che il Vesuvio le bellezze del Vesuvio come le nostre ragazze che abbiamo portato questa sera i nostri grandi attori che sono l'orgoglio dell'Italia come Patrizio Rispo il nostro presidente di giuria fanno grande l'Italia l'Italia ha bisogno anche di questo per riconquistare la fiducia di tutti nel mondo da Gaetano Gaudiero alla prossima buonanotte sigla musica Grazie a tutti. Grazie a tutti.